Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani. Finalmente creiamo un nuovo video relativo al TFA, sesto ciclo qui sotto in descrizione. Troverete il link di invito al gruppo studio whatsapp relativo al gruppo studio TFA 6. Ci sono rimasti pochi posti, ovviamente sesto ciclo. Inoltre sempre in descrizione del gruppo inserirò anche il link di invito del gruppo Telegram, qui c'è la possibilità di entrare in più persone. Allora, cominciamo subito a dare una rinfrescata con qualche test. Allora, vediamo il primo test. L'attenzione selettiva è la capacità di che cosa? Allora, A, B, C, D ed E. Allora, prestare attenzione ad uno stimolo tra molti stimoli, quindi tra molti stimoli, oppure mantenere l'attenzione particolarmente concentrata, altra possibilità, ma non mi sembra, mantenere l'attenzione invece per un periodo prolungato. Questa è un'altra cosa, probabilmente, non è un'attenzione selettiva. Identificare stimoli a bassa frequenza temporale. Spero che già tutti siate riusciti a rispondere ed infine distribuire l'attenzione tra due compiti. Allora, per farvelo rimanere impresso, lo riscrivo. L'attenzione selettiva, quindi l'attenzione selettiva è, mettiamoci una bella freccia, è, che cosa? Il fatto di prestare attenzione ad uno stimolo tra molti stimoli che abbiamo attorno. Ovviamente questa è l'attenzione selettiva. Ricordatelo, è molto importante, è uscita in vari test. E allora andiamo avanti. Come funziona la memoria? La memoria è molto importante. Allora, anche qui andiamo a dividere le varie risposte a b c d e. Allora, registra particolarmente e la memoria registra particolarmente le conseguenze gravi? Questo è vero, però non è la risposta più giusta. Assimila le informazioni e ne registra solo una parte? Io direi, aggiungo, per fortuna, dimentica le informazioni relative a conseguenze gravi? Questo è un pochettino il contrario della A. Orienta le informazioni? E infine ricorda le istruzioni verbali? Allora, ricordatevi sempre, uno psicologo lo sa sicuramente meglio di me, fatemi mettere un colore diverso, lo spessore, un pochettino piccolo, aumentiamolo, in ogni caso lo ascoltate anche veramente, la memoria, assolutamente, che cosa fa? Assimila le informazioni e per fortuna poi ne registra solo una parte. Quindi, a proposito di cervello, sicuramente la risposta giusta è quella che abbiamo appena dato, e il cervello, comunque, solo per approfondire un pochettino, è diviso in più lobby, frontale, parietale, occipitale e temporale, e per formare tutte queste strutture sono sufficienti due tipi di cellule. Quindi è formato da cellule neuronali, che sono responsabili del passaggio dell'impulso nervoso, e sono formate dalla glia, che svolge funzioni di supporto e nutrimento, e forma la mielina, che avvolge i prolungamenti dei neuroni, così abbiamo fatto anche un pochettino di neurologia. E ancora possiamo dire che le funzioni del cervello sono molteplici, integra i segnali percepiti attraverso i cinque sensi, e ancora sicuramente possiamo dire che il cervello controlla i pensieri, la memoria, il linguaggio, i movimenti del corpo, quindi, movimento di braccia, gambe, funzionamento di tutti gli organi, presenti nel corpo, determina le reazioni agli eventi stressanti che possono verificarsi nella vita quotidiana. Andiamo avanti. Benissimo, passiamo ad altro. Il pensiero divergente, che cosa fa? Riassume il concetto dell'importanza, non mi entra, riassume il concetto dell'importanza, di cosa? Devo rimpicciolire un altro po', scusate. Allora, come al solito, mettiamo cinque possibilità di risposta, A, B, C, D, E, e andiamo a scriverle. Allora, l'importanza è di avere opinioni che vadano controcorrente, esprime l'importanza di non lasciarsi influenzare dall'immaginazione, esprime l'importanza di focalizzare un problema da diversi punti di vista. E ancora, esprime l'importanza di divergere quando si parla con gli altri. Allora, ovviamente, il pensiero divergente è relativo alla focalizzazione del problema da diversi punti di vista. Quindi il problema io lo riesco a relazionare con questo punto di vista, quindi c'è una correlazione tra questo punto di vista, quest'altro punto di vista e questo ancora. E' bene spendere qualche parolina in più anche per integrare il test che abbiamo fatto. Il pensiero divergente è essenzialmente un tipo di pensiero che concide con la capacità di produrre risposte che possono essere originali, inusuali, efficaci, in relazione a un determinato problema, a un determinato compito di realtà. Il pensiero divergente spesso è correlato alla creatività, anche invece, cioè risulta invece generalmente non correlato con l'intelligenza. Che cos'è che invece è correlato con l'intelligenza? Il pensiero convergente, che è contrapposto al pensiero divergente. Perché? Perché è ratterizzato dalla capacità di produrre risposte basate su regole di inferenza logica e quindi relative al quotiente intellettivo e quindi anche in ordine a conoscenze che vengono precedentemente apprese. Vi ricordo che secondo Gilford il pensiero divergente è misurabile attraverso indici fondamentali quali fluidità, che è il parametro che valuta quante idee sono prodotte nel tempo, flessibilità, la capacità di adattare strategie diverse e quindi elasticità mentale, originalità, che è l'attitudine a formulare idee uniche e personali e l'elaborazione, infine, che è l'abilità di dare concretezza alle proprie idee. Ringrazio tutti per la visione di questo video. Allora, se vi è piaciuto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e alla prossima. Un caro saluto da Francesco Samani.